La bicicletta è lo sport del momento. La pandemia ha portato una vera e propria riscoperta degli sport all'aria aperta, fra i quali il ciclismo, che si è imposto come attività regina per il nostro tempo libero. Il settore ha avuto un vero e proprio boom, registrando migliaia di nuovi appassionati di tutte le età. Cittastudi ha voluto rispondere a questa esponenziale crescita della disciplina, aggiungendo alla propria offerta formativa il corso di accompagnatore cicloturistico. Figura dedita all'accompagnamento di singoli o gruppi di persone attraverso itinerari ciclabili. L'accompagnatore supporta i neofiti nell'avvicinamento alla bicicletta, impartendo loro le nozioni di base di conduzione e manutenzione del mezzo. Allo stesso tempo, egli conosce in maniera diretta il territorio ed illustra le principali zone di interesse naturalistico e culturale. Questo nuovo percorso formativo, che partirà a breve, ha riscosso una notevole partecipazione, facendo registrare in pochi giorni il tutto esaurito. Il corso, della durata di 300 ore, di cui 148 di pratica, si svolgerà in orari pre-serali con lezioni teoriche e nei weekend con escursioni guidate in bicicletta. Al termine verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di abilitazione professionale valido per l'esercizio della professione. L'ente biellese prevede inoltre di lanciare nei prossimi mesi un secondo percorso dedicato al turismo, il corso di accompagnatore turistico. Questa figura rappresenta un elemento fondamentale all'interno dei viaggi organizzati. Egli infatti si dedica alla pianificazione dell'itinerario, all'accoglienza e assistenza dei turisti, alla gestione della logistica e delle questioni amministrative, fornendo allo stesso tempo informazioni sui luoghi visitati. Il percorso, della durata di 346 ore, di cui 50 di stagi, è totalmente gratuito e si rivolge ad adulti sia occupati che disoccupati, in possesso di diploma di maturità e di una buona conoscenza di una lingua straniera. Al termine verrà rilasciato un attestato di abilitazione professionale.